Benvenuti a casa, un prato come questo ci ha consacrato 29 volte campioni d'Italia, due volte campioni d'Europa e due volte campioni del mondo. Grazie per la visione! Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta! Vincere non è l'unica cosa che conta! Per l'inizio del campionato. Il nostro faro del centrocampo, Andrea, attenzione, il dribbling, ancora Pirlo, il tocco dentro, la posizione buona, attenzione, go! La Juventus è in vantaggio con Stefano Linshteiner! Il primo gol nel nuovo stadio ed è lo Svizzero! Un gol bellissimo, un passaggio meraviglioso da parte di Andrea Pirlo! Con Alex, Alex a spazio, Del Piero, l'apertura per Pepe, attenzione, Pepe! Per Vucinic, Vucinic! Attenzione ancora l'azione buona, Vidale! Pirlo! Pirlo va a pescare, attenzione, Marchisio! I padroni di casa, di fatto, non si sono mai resi pericolosi. È con questi presupposti che una ripartenza ben orchestrata ha significato la conquista di tre punti. Fate subito Pirlo! Per Vucinic, Vucinic! Dalla bandierina, ora Ramirez, attenzione, e c'è il pareggio della Bologna. Pirlo dentro, attenzione, per Bartuagli, colpo di testa, Scinne! Sorpresa dal dinamismo degli uomini di Montella. Marchisio per Pepe, Pepe per Krasic, buona questa azione, arriva anche Pirlo. Krasic, la palla in rete! Pirlo, davanti per Vucinic. Vucinic, traversa! Attenzione ancora le finte, Andrea sul sinistro, palla dentro, il compitista e poi la parata di Abbiate. Sempre per Vucinic, ancora Mirko, Vucinic per Pirlo, in velo, attenzione, Vidale! Poco per Vucinic, ancora Mirko, Vucinic, Vucinic! E apre verso Marchisio, se ne va Claudio nello spazio, Marchisio, tocco davanti, per ancora Vucinic, per Marchisio! E la palla in rete! Marchisio, 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 la Juventus è in vantaggio! È venuto numero 86, con Claudio Marchisio, il riparo è vincente, è battuto a Piatti e ce l'andiamo in vantaggio. Può puntarlo Jack, puoi mangiartelo, Giaccherini, attenzione ancora, Giaccherini, palla dentro per Vidal, che arriva di gran carriera. Ma non facciamoci trovare scoperti adesso ragazzi, poi Marchisio, e la palla in rete! Marchisio, 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 la paperaccia di Abbiati, 2-0 per la Juve! Il palo dice no a Del Piero, poco prima della mezz'ora. Il pari è comunque un risultato accettabile, i bianconeri mantengono il primato. Gioca verso Marchisio, e la palla in rete! Forza, 1-0 per noi! Errori di crescita assolutamente normali in questa fase della stagione. Ancora vicino per Bucinic, Bucinic, taglio, attenzione, Matri, Matri, il raddoppio della Juventus! Attenzione al taglio di Kuczka, colpo di testa verso Caracciolo, il pareggio... Andrea Pirlo, palla tagliata, basta, attenzione, Vidal! E la palla di Voluzzi, e poi c'è la rete, da parte di Voluzzi! Cioca centrale verso Vargas, la sponda per Juve, Tic! E la palla in rete, il pareggio della Fiorentina. Pepe se ne va verso l'area di rigore, Pepe c'è ancora un contrasto, Pepe, Pepe, negli spazi dentro! Per Matri! È un gol fantastico di Alessandro Matri! Enstein, la destra, una spazio, lo sviltero, valore in mezzo, basta Matri! A meraviglia di Talazzi, e poi c'è la rete! Juventus in vantaggio, da Mirko Vucinic, al minuto numero 12! Tocco vicino per Maicon, attenzione, Maicon! E la palla in rete! Stefan, tocca vicino per Mirko Vucinic. Vucinic davanti per Marchis, attenzione, Marchisio, il tocco per Matri, Marchisio! E la palla in rete! Marchisio! 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 Ancora lui, ancora il numero 8! Nuovamente per Kirlini, attenzione, palone in mezzo, verso Comini, c'è la palla in rete! E il Juventus in vantaggio con Simone Pepe! Pirlo, attenzione, Pirlo, Pirlo! Il palo di Andrea Pirlo! L'azione con la buona Matri! L'esterno della giocata, attenzione, verso Ilicic, Ilicic, Buffon! Vucinic dentro, un palone per Marchisio! Possiamo ripartire con Andrea Pirlo, verso Mirko Vucinic, arriva Matri, attenzione, Matri, è servito il corsa! Alessandro Matri, il pallone in mezzo di Matri, per Pepe! La Juventus è in vantaggio con Simone Pepe! Il pallone in mezzo, attenzione, verso il pallone per Hernanes, palo pieno della Lazio, poi Lulic! Dentro verso Close, 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 Buffon! Attenzione, parte Amsic, fuori! Sul secondo palo, occhio a Amsic, c'è il vantaggio del Napoli! Occhio il pallone che stava sfilando nella zona di Pandev, attenzione, ancora Pandev! C'è il raccoglio del Napoli! Per Vidal, Vidal a campo aperto, Vidal dentro, pallone, verso Matri! E la Juventus in gole! Pallone dentro, attenzione, verso Pandev, Pandev! La pallone in rete, terzo gol del Napoli! Barzagli, ancora per Vucinic, che salta come un birillo Aronica! Può metterlo in mezzo, attenzione, palla dentro! Sul secondo palo, attenzione, Stigarribia! E Stigarribia! Gargano, Chiellini, la palla, la palla, preso la palla! Attenzione, Pepe, può partire Simone! Pepe, Pepe, attenzione, Pepe, ancora! Pepe, 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 Pepe! Vidal, Vidal dentro per Marchi, attenzione! Marchi, 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 Marchi! Tiro di Vidal! Pallone morbido in mezzo, attenzione a De Rossi! E poi a palla in rete, Pepe, dietro il pallone per Vidal, Vidal d'Esterra, attenzione per Stigarribia! Pallone in mezzo per il compudizio della rete! Di Chiellini, per il pareggio della Juventus! Tiro di Francesco Totti! E la pallone di Mursen! La pallone di Mursen! Ma di fronte Morganella, De Ceglie, pallone basso, attenzione, Pepe! Pallone dentro, colpo di testa e a palla in rete! Di Fabio Quagnarella! Va a riceverlo il Ceno, attenzione Stigarribia, pallone dentro! Verso Marchisio! Tenta per Marchisio, Marchisio, Marchisio! Vucinic, Vucinic! Vucinic! La palla, attenzione, c'è Madri lì! Madri, la Juventus è in vantaggio! Marchisio dentro! Stai, attenzione, attenzione, meravigliosa! La palla in rete! Per il vantaggio della Juventus con Mirko Vucinic! Per portare a casa un punto. Dobbiamo essere delusi dal risultato. Per vincere il platonico titolo d'inverno. Pirlo porta a spasso la sfera. Poi pallone, attenzione, verso l'Ingsteiner, colpo di testa! E la palla in rete! Pirlo per Marrone. Va ancora Marrone, palla dentro, Giaccherini! Giaccherini! Stigarribia contro Masta. Dribbling, Stigarribia, pallone dentro, verso Quagnarella, colpo di testa, la pallata! E poi la rete di Alessandro Matri! Floro Flores, attenzione, Floro Flores! La palla in rete. Dal verso Marchisio, la tocca giusta verso Matri. Mentre, attenzione, Matri, Matri, e la palla in rete! Palone indietro, Chiellini, pallone dentro, mano, attenzione, mano, una rigore! Chiellini, il cross, mano piena. Vai il professore, poi l'apertura, attenzione, centrale per Giaccherini, occhio, Giaccherini, contatto dentro l'area di rigore! Prende la gamba, Vidal, la batte in avanti per Barzagli, la mette dentro, attenzione, colpo di testa, poi Pirlo, attenzione, Pirlo in contatto, contatto dentro l'area di rigore! In sala stampa, Conte dice a chiare lettere quello che tutti pensano. Perché da parte nostra c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene, c'è tanta passione. Chiediamo rispettare. Attenzione, il tocco vicino verso Barrientos, Barrientos parte il tiro di Barrientos, la palla in rete, va Andrea Pirlo, parte il tiro di Pirlo, la palla in rete! Scodella al centro, Andrea, attenzione, verso Chiellini, la palla in rete! La Juventus è in vantaggio con Giorgio Chiellini, e questo è un gol fondamentale! Dietro verso Kozicchi, che sbaglia il rilancio, attenzione, Pirlo, davanti, Guagliarella, 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 la parata e la palla in rete! Va ancora il Milan con Nocerino, Nocerino parte il tiro e la palla in rete! Manuelsson, occhio il pallone dentro, ho colpo di testa di Mex, è sparata Buffone, poi la parata e il gol, il gol delle Milan con Montari, no, ma ne gole, allora ripartiamo! Un tempo a testa, il primo rosso-nero, il secondo bianconero. Attenzione, Vucinic, Vucinic dentro, Matri, 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 la palla in rete! Fuori gioco, fuori gioco! L'assistente ha alzato la bandierina, attenzione, il recupero, era buona, era buona, Lichsteiner, Pepe, la può mettere Simone, la mette, attenzione, e la rete! Il pareggio della Juventus con Matri al minuto numero 38! Pirlo, il pallone dentro, colpa di testa di Chiellini, palo, e poi la rete di testa! Moscardelli, occhio, Moscardelli, basso, il pallone arriva da dietro a Rimorchio, tra me, parte il tiro! La palla in rete! Ci troviamo ad essere, tra virgolette, considerati da voi l'antimilan? Io dico che è successo un miracolo, è che siamo venuti a qualcosa di straordinario. Pallone subito indirizzato verso Ramirez, pallone dentro, per Divaio, attenzione, Divaio! E la palla in rete! Pirlo, attenzione perché Bologna è un po' scomposto, il pallone dentro! Adenzione, Vucinic, Vucinic, la palla in rete, il pareggio della Juventus! Solo i sette minuti, e si vedono annullare un gol assolutamente regolare, senza contare il placcaggio in area subito da Matri nel primo tempo. La reazione della società è un silenzio stampa che fa rumore. Matri forza un fallo alle sue spalle, ancora Vucinic, adenzione Matri, Vucinic, Vucinic, palo! E poi Matri, palla fuori! Verso Andrea Pirlo, attenzione, è giocata, Vucinic! Vucinic, la palla in rete! La Juventus è in vantaggio! Mirko ancora, Vucinic potrebbe riservire, arriva Vital, attenzione, Vital, la palla di Volusio, vai Vital! E la palla in rete! Attenzione, va ancora Mirko, in mezzo c'è Marchisio, pallone dentro, Marchisio! 3-0! Va fare il pressing decisivo, che parata! Vucinic dentro, verso Pirlo, attenzione, Pirlo, Pirlo! E la palla in rete! 4-0 della Juventus, con il professore Andrea Pirlo! Pirlo, Borriello è dentro l'area di rigore, va ancora il professore, Pirlo parte il tiro deviato, attenzione, in gol! Il quinto gol della Juventus! Pirlo, attenzione, Casares si chiesa, la palla in rete! La Juventus è in vantaggio! Combatto in Casares! Sterza, ancora Vidal, pallone dentro! Per Del Piero! Del Piero, il radocchio! Dalla Juventus! Con la reggenda, Alessandro Del Piero! Pirlo, attenzione, pallone dentro, la palla che rimane lì, Barzaglia, attenzione, il tiro in rete! Il vantaggio della Juventus, con Leonardo Bonucci! Attenzione, Vidal, Vidal ancora, Vidal, triplica, attenzione, Vidal in tiro! E la palla in rete! Poco per Guagnarella, 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 e la palla in rete! Fuori dall'area c'è Vidal, il pallone dentro, è colpito, e se la palla in rete! La Juventus è in vantaggio, con Leonardo Bonucci! Un gol pesantissimo! L'Alessandro, il tocco verso Guagnarella, e il tiro, e la palla in rete! Pirlo non sa chi darla, poi la mette in mezzo verso Pepe! Pepe, Pepe, la Juventus è in vantaggio! Il pallone dentro di Scaloni, Mauri, e la palla in rete! Parte il tiro di Del Piero, e la palla in rete! È un gol straordinario, per la reggenda, dal fenomeno, Alessandro Del Piero, alla presenza, numero 700! Per decenni, attenzione, la mette in mezzo verso Guagnarella, poi Vidal, e la palla in rete! E va il Montenegrino, attenzione, Vucinici all'esterno, poi per Vital, e la palla in rete! Parte il tiro di Pirlo, e la parata di Furchi, poi la palla in rete! Pallone basso verso Vucinici, Marchisi, e la palla in rete! Il pallone dentro, verso Borriello, la sponda, attenzione, il tiro, e la palla in rete! La Juventus è in vantaggio, con il primo gol di Marco Borriello! Esplode il Baluzzi, Marco Borriello! Pallone dentro di Pirlo, attenzione, Vucinici, la palla in rete! La Juventus è in vantaggio! Ancora Jack, dentro l'area di rigore, pallone morbido, attenzione, in testa, la palla in rete! Il reddoppio della Juventus! Vucinici, Vucinici, e la palla di Fontana, poi Vidal, e la palla in rete! Ancora Jack, di fronte Cieli Suzzo, Giaccherini, Giaccherini, il tiro, la parata, poi arriva Vucinici! Ancora Pirlo, il pallone dentro, attenzione, verso Marchese, di testa, il femminista, la palla in rete! Barzagli, Buffon, l'appoggio di Gigi, attenzione, il Lecce, e c'è il pareggio del Lecce! Un evento che succede ogni dieci anni, e che rende più umano il nostro superportiere. Il Milan si avvicina a meno uno a 180 minuti dal termine. Anche Matri, poi Borrucci, a servire il pallone per Vucinici, attenzione, Vucinici, Vucinici, quindi la palla in rete, il vantaggio della Juventus, con Mirko Vucinici, al minuto numero 5! Bene la Juve, il pallone dentro, verso il tutto di Borriello, e la palla in rete, e quel fantastico di Marco Borriello! Antonio Conte, l'emozione, il sorriso del nostro mister, mancano 15 secondi, e sta il sogno in realtà. Pirlo, il pallone per Caceres, la Juventus, per la trentesima volta nella sua storia, è campione d'Italia! Una gioia indescrivibile, che ci meritiamo tutti! Uno scudetto che ha tanti, tantissimi volti, da buffone a Pirlo! Tutti hanno dato un contributo straordinario in questa stagione, che non ci dimenticheremo mai! Mai ce la dimenticheremo! Abbiamo sofferto, abbiamo gioito, ci abbiamo creduto con il passare dei giorni, e adesso festeggiamo! Juventus-Atalanta chiude il campionato 2011-2012. Conte ha ancora un desiderio da soddisfare, portare a termine un intero torneo senza perdere mai. Intanto Marrone, tiro di Marrone, è per il rete! La Juventus è per il gioco! Realmente per Del Piero, il gioco è per il tiro di Del Piero, è per il rete! La leggenda del coach italiano, l'inchino di Alessandro, vi salutano i tutti, si fermano tutti, tutti in piedi! Portare, 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 portare! Hanno segnato davvero tutti, signori, hanno segnato i venti! Tocca al capitano, alzare al cielo di Torino, baciandola! La festa dello scudetto più bello della nostra storia, lo scudetto dell'orgoglio, lo scudetto numero 30! Questa è la nostra festa, conquistata con la scritta Alessandro Del Piero sul suo sito, fino all'ultima goccia di sudore! Una mentera meravigliosa! Questo è lo scudetto di tutti noi, lo scudetto più bello di sempre! Ci piace ribadirlo più volte, perché questa è la verità! Lacrime e commozione sugli spalti, questa è la squadra fantastica che ha firmato un'impresa eroica!